C'è chi torna nella propria terra, c'è chi resta nella terra d'origine e sono tante le iniziative per supportare comunque questa, mi dispiace chiamarla tendenza, diciamo questa buona regola che è scattata nella testa di tanti. Tra le tante associazioni voglio citare l'associazione Scatola di Latta che ha fondato la rete Daimon a scuola di restanza, restanza, l'andate a cercare sul vocabolario e sull'enciclopedia, la restanza esiste, ce la spiega Teresa Mariano, una manager culturale con un passato, la vedete, da grande discografico, ben arrivata, grazie infinito di essere con noi. Che è tornata a Montagano, in provincia di Campobasso, intanto un luogo stupendo, paese di origine della tua famiglia, della famiglia di papà Teresa, che cos'è questa restanza innanzitutto? Cioè, tornare nei luoghi dove si è cresciuti, stare nei luoghi dai quali si dovrebbe andare via e farli vivere nel modo migliore? È rifiutare di andare via. Non è una malattia, è un rifiuto. Rifiutare di andare via. Allora, che cosa succede? Questa è la cartolina. Sì. Montagano è questa. Allora, da Campobasso, come sempre, dalla città, andare poi nel paese dei nonni era la buona regola di tutti i bimbi. Già che tu porti una bimba, la bambina che in te la porti appesa, con molto orgoglio, come ciondolo, al collo. Ed era un luogo che amavi, evidentemente. Lo amo ancora, sì, sì. La mia famiglia vive lì, anch'io passo spessissimo lì. Insomma, quando posso, lavoro, concepisco, che ne so. Mi vengono più idee. Mi vengono più idee. Eppure, ovviamente, se parliamo di essere discografici, Milano è Milano, altre grandi città. Però diciamo che tu sei sempre stata una molisana con la valigia. Posso dire così? Diciamo che sono stata una pendolare, perché comunque il mio lavoro di manager l'ho fatto sempre in Molise, tra Montagano, Campobasso e altri borghi, no? Perché curare l'artista è un altro lavoro. La discografia, invece, è produrre un disco. Certo. E quindi, per cui ho fatto spola, nel senso che curavo e tenevo gli artisti in ritiro, e poi live, produzioni, interviste, insomma, si andava su. Ci si spostava. Su. Ci si spostava su. Allora, guardate questa fotografia. Per esempio, i Negramaro. Abbiamo un giovanissimo, adesso arriva, Giuliano Sangiorgi, che, vabbè, qui è meraviglioso, però questa è una squadra di calcio, non è una fotografia. Quasi. Siete proprio, siete tanti. Allora, il concetto è questo. Per essere creativi, tu hai curato e curi tantissimi artisti, la necessità di trovare un luogo, eccolo qua, un luogo silenzioso, un luogo dove caricare e ricaricare se stessi, fa sempre parte di questo concetto di restanza? Cioè, vado a scegliere un luogo dove restare, dove stare, dove fare qualcosa di altamente creativo? Sì, fa parte del concetto di restanza perché sono i luoghi dove puoi denudarti, non hai responsabilità, ti puoi rilassare, quindi concentrarti maggiormente sulla tua vena creativa. Non voglio dire ti chiudi in seminario, non voglio dire ti chiudi in collegio. Ti chiudi così, con le persone, con la signora incoronata, questa era la prima locanda che ha aperto nel mio villaggio e quindi ho pensato bene di portare i ragazzi lì per più mesi a prepararsi spiritualmente anche perché non è facile così giovani affrontare il successo, puntarci e riuscirci e quindi genuinità dal cibo all'amicizia, alla naturalezza, alle persone che incontri. Piedi a terra, ecco. Piedi a terra. Allora, noi con Teresa Mariano ci vediamo tra un attimo. Immagino che a Montagano ci stiano seguendo tutti in questo momento, come nel meraviglioso Molise, ma anche in tutta Italia, come voi ci seguite. Non è un scappo della città, ritorno a tutti i costi in quel luogo, però è non dimenticare mai di tutelare i luoghi meravigliosi dove trovi parcheggio, dove ti saluti per strada, dove prendere il caffè. È un'operazione lenta. Che meraviglia. Ci vediamo tra un attimo dopo la pubblicità. Grazie. Teresa Mariano, che ha un ciondolo bellissimo con una bambina, dice Per ricordare sempre la bambina che c'è in me, ha sicuramente come bambina fatto una riuscita assolutamente perfetta. Un passato da manager discografico, manager culturale, continua ad esserlo e lo sarà per sempre. Ha deciso di tornare, o se volete di non lasciare mai, Montagano, provincia di Campobasso. Siamo nella meraviglioso Molise. I suoi sono seminari, studi di management artistico creativo. Intanto ben tornata, ben arrivata, non te ne sei mai andata, ma insomma siamo qua. Guardate questa fotografia. Noi giustamente nel vedere questa foto ci siamo innamorati, ci siamo beati, perché è durissima questa foto. Questa foto racconta un modo difficile e complesso di vivere. Però il tuo Molise è anche questo. Diciamo gran parte dell'entroterra italiano. Questi erano anni in cui non c'era l'acqua corrente, quindi le donne andavano anche d'inverno a raccogliere con queste tine l'acqua. Ma meno 5, meno 6 gradi. E non con i doposci. Non con i doposci. Ve lo ricordate il colonnello Bernacca? Quando ero piccolina io, ogni tanto c'era Campobasso non pervenuta. Perché faceva talmente tanto freddo che la temperatura di Campobasso, e si intendeva il Molise, non arrivava. Perché era, è, vorremmo sperare di averlo ancora oggi, anche questo. La risposta di questi abitanti, o se vuoi dei figli di queste signore e anche nipoti, a vedere questa loro figliola che torna in sostanza non se ne va mai, e che crea tutto questo grande parapiglia a Montagano, insomma, culturale, musicale, di attività. Qual è stata? Intanto è un villaggio, è un paese molto artistico, ha una storia. Io ho avuto la fortuna di nascere in un luogo, ancora oggi c'è un coro, una banda. Che bello. Don De Lillo, il famoso scrittore, i genitori erano di Montagano. più, tipo Celestino V, il Papa del Gran Rifiuto, a Faifoli, questa chiesa di Campania che abbiamo giù. È un paese di artisti, quindi io, di creativi, quindi io sono cresciuta con la Proloquo, Eventi, eccetera. E da lì mi sono portata dietro questa voglia di lavorare nel mondo della musica, del teatro, dell'arte. Questo è il coro, per esempio. E quindi è risultato naturale per me, ecco, molto naturale puntare i talenti e dare una mano quando riesco. Aspettate, quando riesce, nel 2011 questa signora si dedica all'ideazione del progetto di promozione territoriale Molise Parco delle Arti, in modo tale da trasformare in borghi artistici, dei borghi che, diciamocela tutta, poi arrivano gli stranieri e dicono che meraviglia, però se tu non trovi lavoro, se tu non hai lavoro, se non c'è una volontà di migliorare il luogo, te ne vai. E invece tu stai da tempo facendo la strada al contrario, ma con una forte capacità attrattiva. Sì, in pratica lavorando questi artisti è andata bene, quindi sia con Roy che con Caparezza, che non è gran male. Poi mi è sembrato logico ampliare questa passione, cioè dedicarmi alle comunità anche, perché le comunità hanno talenti. A me piace stare nei paesini e quindi ho messo su questa impresa sociale insieme ad altri soci, borghi artistici, e quindi continuo con gli smac, aiuto gli artisti e con borghi artistici aiuto le comunità. Le comunità. A ritrovarsi, a stare insieme, a costruire bellezza e gioia anche, perché c'è tanto bisogno di stare insieme bene, secondo me. Teresa, siamo passati tutti per tutti noi, per il Covid, no? Sì. E siamo passati per l'improvvisa necessità, obbligo, di far diventare i nostri condomini veramente luoghi nei quali cominciare a capire chi abitasse al piano di sotto, cominciare a capire, fare scambi di libri, sempre lasciando tutto in pulizia totale, non toccando le cose. Però questo, poi la gente se lo dimentica in fretta, ma questo nei piccoli paesi è stato un acuire ancora di più quel senso di vicinanza, di solidarietà. Non è un voler raccontare poesia a tutti i costi, però è diverso lì il modo di vivere e di capire le cose. Ed è il 70% dell'Italia, questa è la nostra pineta, dove abbiamo fatto un sacco di anche lì attività artistiche. Lì ho cresciuto pure Negramaro. Ho cresciuto in Negramaro, quanto è bella. Sì, proprio perché è un atto d'amore, sicuramente. Il Covid ha dimostrato che l'Italia ha bisogno di curare e tornare a dare importanza all'entroterra. Primo, perché lì ci sono le risorse. Eh sì. Ma secondo, perché è gran parte del nostro territorio. E il Covid, credo che alle piccole comunità abbia dato più dolore, perché c'è più abitudine a toccarsi, a uscire insieme, a... A conoscersi. Sì, e sono... mi dispiace perché c'è stata solitudine, sicuramente. Poi sono anziane le comunità, i giovani, la gran parte, sono già andati via. Quindi... Però ci pensi tu a farli rientrare? Non solo io, c'è tantissima gente. Non solo lei, però diciamo che, insomma, Teresa Mariano è molto, molto attiva. Lei continua a dire che le ho cresciuti in Negramaro. Quanto tempo sono stati, se c'è una tempistica che possiamo dare? Cioè Montagano, per quanto tempo li ha cullati e preparati nel loro lavoro? Normalmente c'è bisogno di almeno tre anni per considerare, a prendere degli artisti che sono quasi sconosciuti, ci vuole un triennio. Quindi così per Roi, così per Caparezza. E loro hanno frequentato quindi il villaggio per tre anni. Che meraviglia. Allora, siccome però ovviamente Montagano è meravigliosa, ma Teresa Mariano ha una forte attitudine a spostarsi, anzi credo anche che viaggi con valigie molto leggere, perché quello che conta e che deve pesare è ciò che porta in testa come idee, a Roma, Università La Sapienza, lei si occupa del progetto Uno per Tutti, Tutti per Uno, che è bellissimo, ma poco ha a che fare con i moschettieri, se non per il titolo, e invece riguarda che cosa? È proprio questo, cioè al di là degli artisti andare ad aiutare le comunità con progetti che sviluppi, con i quali sviluppi il loro talento. Nel caso di Tutti per Uno abbiamo lavorato a San Lorenzo, pensa che bella cosa, San Lorenzo, quartiere di Roma, 15 disabili, cioè allievi comunque della Sapienza, universitari, con loro abbiamo mappato tutta San Lorenzo, e abbiamo contattato tutti i commercianti che loro frequentavano abitualmente, sai, dal panino al caffè, e abbiamo indicato dove c'erano barriere architettoniche che si potevano risolvere senza troppo tempo o denari. E quindi i commercianti stessi hanno ricevuto un bollino da tutti per uno e hanno facilitato la vita di questi studenti. È stato un piccolo esempio di come comunità, imprenditori, creatività dei ragazzi, e quindi si possano raggiungere dei risultati utili anche. Perché in Molise anche gli uomini, i parble, ma le donne sono tenaci. Lo dico con orgoglio perché sono amica di molisane. Ah sì? E molisani assi, e le donne sono molto tenaci in Molise, e dal loro Molise, dalla loro Montagano, irradiano tenacia ovunque. Teresa Mariano, quando andate a Montagano, cercatela. Se siete fortunati la troverete. Grazie, grazie, grazie di essere stato a noi.